Continua il percorso partecipato per parlare di antenne e per governare questo importante tema riguardante le antenne nella nostra città. Da un lato dobbiamo garantire lo sviluppo tecnologico, ma dall'altro dobbiamo assolutamente governare questo processo e tutelare la salute e il territorio. Come farlo? Abbiamo iniziato con un incontro online che è visibile sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Fano, andatelo a rivedere. Ma adesso proseguiamo. Dopo aver dato l'incarico a Polab, che è stata incaricata di redigere il nuovo piano delle antenne, presenteremo il piano in un'assemblea pubblica attraverso la Commissione Consigliare Ambiente. Ci ritroveremo nella giornata di venerdì 23 alle ore 17 presso la Sala del Consiglio Comunale. Tutta la città è invitata ad intervenire, a vedere e a partecipare, perché poi avrete dieci giorni per poter dare le vostre osservazioni e poter dire cosa volete cambiare e cosa no. In questo modo potremo completare il piano delle antenne secondo quello che dice anche la città. È importante che partecipiate per conoscere meglio. Notizia di questi ultimi giorni molto importante è che il Tarmarche si ha deliberato dando ragione all'impostazione di piano che noi abbiamo scelto di adottare. Quindi partecipate per conoscere, per dire la vostra e per sapere come si può governare bene il territorio anche in questo momento importante.